Come pensate su questo gioco? È stato un gioco difficile, ovviamente Kim Ki è un ottimo giocatore, sempre giocano bene. La nostra difesa non era così bene che ci avessi piaciuto, ma ho pensato che abbiamo giocato difficile, è solo un po' corto. Sì, sono un po' corto. I'm asking you about the difference you felt between playing in EuroLeague and in EuroLeague, relating to EuroLeague. Kim Ki è un tipo di squadra di EuroLeague, quindi per loro si sentiva come un gioco di EuroLeague. Come ho detto, Kim Ki è buono, l'energia era buona dai fanci, quindi si sentiva lo stesso. Sì, sembrava di giocare un po' una partita in EuroLeague, perché loro come livello è una squadra in EuroLeague, e anche l'ambiente e la partita stessa giocata, sembrava di giocare una partita in EuroLeague, ma non ho notato particolari differenze.